E vabbè, siamo tornati, siamo ritornati, Mattia vuoi annunciare tu visto che sei quello che tiene la cintura? Allora, in quanto padania champion, e Dio ringrazio Matteo Salvini, abbiamo deciso di chiudere un'altra serie nel tuo canale, la serie di W2K16, speriamo di continuarla nel 17, visto che prenderò la limite di U. Una serie, è un po' diciamo una sfida, ma in quanto è finale di stagione, io ti azzero tutte le tue sconfitte e ti lascio la possibilità di vincere, chi vince prende tutto, un L in SL match ad L in SL, e meglio di così non si può fare veramente nulla, il mio personaggio contro il tuo, non ho capito cosa hai fatto, ma vabbè, chi vince vince tutto, finale di serie, chi vince vince la padania champion, è un L in SL, E prevedo devasto a grandi linee, perciò dovrebbe essere divertente Ti apro in due Ti apro come un cacamero Ah, sei rosso E inizia la sfida finale, padania championship on the line Attenzione si studiano Attenzione si studiano Oh, attenzione Non mi ricordo come... Ed è partito il lag, lag selvaggio Ok Non dico solo che io ho spinto triangolo per fare... La cosa, come si chiama Per farti la contromossa Attenzione Abituato a Mad Vax Ohhhh E' così che parte la sfida Aia Con quale grande lag? Aspetta, aspetta Prendilo bene, prendilo bene PUM Aia Sono un po' in piedi PUM Aia, come troppo tardi Aspetta eh, fermi Che vado all'Ikea Ma non... Non ti sono riuscito a prendere, Aia Così impari Non mi ti ha fatto prendere Lo so E' perchè ero all'Ikea a prendere le sedi Posso dire che così vestito di rosso sei veramente brutto Forza Milan Venga dentro Ma se ci arrivi ti faccio vincere base Io non la non ci vengo Quasi Piuttosto alla pari questi match Ma ricordati che ce l'abbiamo mazza ancora Aspetta Siccome ho detto Devast Ora ti rompo la gola No, ma che sei scemo No, no, no Arbero Ma cosa... Figlio di puttana Oh Scusa Mi dispiace Sulla sedia Aspetta E' un momento confuso del match Maia Attenzione Ma ho cambiato special move Chi è pronto? Sei pronto? Sei pronto? Sei pronto? Sei pronto? La senti? Ma sto cadendo No aspetta, muore in ciambo eh Buh Pab Ma cos'è sta roba? Ti ho promesso Devasto E Devasto, Brian Compre i Street Fighter 5, pezzo di culo Sì, io Ti ho promesso Devasto E Devasto Ahah E niente Tra l'altro Si è aperto tipo cancello di quelle a scorrimento E niente La battaglia di fretta Ma cosa fa? La salga Eh ma deve stare calmo che io non mi ricordo i tasti Aspetta Mi spingo R2 per andare più veloce Aspetta Eccomi Ti aspetto L Vedi quiiii Cazzo fai Dai che palle Oh 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 No dai è finita No 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 Scusa al contrario Non ti è Non ti è Non ti è È il mio momento to shine Ciao Com'è possibile Oh 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 Via 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 Dai dai No no Boom Uh Lasciami Boom Lasciami Plexi di bitch Perché tengo il braccio staccato da questo collo Perché mi vuoi tanto bene Perché voglio farmi male Perché mi vuoi tanto Perché ti voglio bene La gambetta Che male Vengo a controllare se stai bene È morto Grazie al cazzo Che male fortissimo Come faccio? Come è possibile? Di me Ti hanno pressato un rene Dai dal pubblico Dai sali Coglione Sua mamma Alabama slam La banana slam E non era la mia final bitch Non so perché me l'ha fatta Ma non è la mia final Ce l'hai anche tra le mosse standard Oh testata Ah no Si era la mia standard Ho lasciato quella Così era per testare se Sì Di una merda Alzati Aia Calcetto Aia Da stizza Come ho fatto a non cadere? Come ho fatto a non cadere? Il gioco fatto male È perfetto No Ma posso cadere solo da una parte io? Testata Irish whip Forse anche dall'altra This way No 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 Te lo giro Te l'ho girato Oh Com'è possibile che non cado in questo modo? Nooo Nooo Che co-che-che opportunità ho avuto però Forza 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 Alza di pezzo di merda Pum Perchè non Cosa è successo? Perchè non sei caduto? Perchè non sei caduto? Perchè non sei caduto? Perchè è un gioco bellissimo Sti giovani d'oggi Non mi fido mai di lei Così di... Perchè non lo... Nooo Nooo Smezzo Com'è possibile che non... Non sei caduto come? Non sei caduto come? È la seconda È la seconda volta Ma che fai? Io ho una cosa so fare Non riesco a farti cadere manco così E poi? Merda L'ho mancato Eh è sbagliato Eh niente Mi hai fatto solo stipite Però Non ho rispetto di ciò di tutti Eeeh Ma dai Perchè? Perchè tu ce la fai io no Dai però Prezzo speciale Primo cliente Ci ha trasportato dall'altra Ci ha teletrasportato dall'altra parte del mondo Quando ti ho fatta io Questa è una stronzata Iscritti dite glielo che è una stronzata Abbraccialo forte Bene così Forza Nooo Eeeh Bella merda Bella merda Oddio salvata Adesso ti schieno perchè sono strozzo No 1 No Non vale Dai Non vale Non vale Non sono d'accordo Cazzo Si Non vale Non mi risulta Padana Padana champion Aaaaaaah Cazzo Ho vinto tutto Pa City City Ho vinto contro il mio mentore Ho vinto tutto Non mi piace Nooo Assolutamente no Mettete un non mi piace Aaaaaah Oddio che bello Aaaaaah Che combattimento stupendo Ti odio Bellissimo Togli dagli amici di facebook Adesso mi vengono 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 a staccare la corrente Adesso mi sto strillando come un cane E' l'una e solo le due Cazzo Blocca su PlayStation Network Ho finalmente tricofato Signori miei Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Quindi vi vedete A sticca su facebook Segnale al canale youtube Dopo questa vittoria Nudità e razzismo Incitazione all'odio Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Condividete su facebook Fate tutto quello che vi pare Io sono un vittorioso Alex UX Del Padagna Champions Io odio tutti E questo è un funestato Mattia Che ha appena perso la battaglia No questo è un furto Questo è un furto Cosa stai dicendo? Cazzi tuoi Cazzi tuoi Dov'è che non ti ho ancora bloccato? Aaaaaah Mi sto piangendo Dopo aver rotto il tavolo dei cronisti Cadendo da 200 Dall'ottavo piano di un grattacielo E' solo collessato un polmone D'altra parte Cosa vuoi che succede? No 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 Se vuoi ci compriamo Possiamo sempre comprarci tutte e due le Xbox Così ti blocco anche lì però Ci c'ho l'Xbox Aspetta che arrivo La compro giusto per bloccarti Signori miei Quando questo video raggiungerà 17.000 mi piace Io e Mattia ci compriamo Una gabbia E facciamo un Elinatel In real life Ci stai A 17.000 mi piace Va bene Ma anche a 17 Va bene A 17 lo facciamo A un cantiere di dragona Va bene Con l'antitetanica pronta per salvarci Quindi arrivederci signori e signori Io sono Alex Wex Lui è Mattia di Cultura Wrestling E questo era il finale di stagione Vi presento il vostro Padania Champion D'altra parte altro titolo non poteva più essere adatto E questo è tutto Io che sono romano Ci vediamo E questo è tutto Su WW2K17 Se Dio vuole Io ce l'avrò Assolutamente signori e signori Grazie 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 all'attenzione Figlio di puttana Aspetta un'idea Vieni qua Noi ci picchiamo Fai la stessa taunt 3 2 1 Vai Aspetta Vai Oh Sì Vai Torna Possiamo tornare a picchiarci Possiamo tornare a darci le pizze